Oggi le parole non contano più, contano i fatti che nel calcio sono i punti. Il giarre oggi pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15, al San Gaetano di Belpasso deve fare solo bottino pieno per interrompere la serie negativa che ha fatto precipitare il giallo-blu in zona play-out. Da Belpasso deve cominciare l'inversione di tendenza per queste ultime cinque partite del girone B di eccellenza, come spiega mister Giancarlo Fichera. Dopo queste battute d'arresto penso che ci aspetta un calendario discreto dal punto di vista dell'avversario da incontrare, ma che comunque dobbiamo stare molto ma molto attenti. Già ci siamo giocati tutte le chance che avevamo, adesso diciamo che siamo quasi con l'acqua alla gola e quindi cercheremo in queste partite di mettere tutto quello che abbiamo per ottenere i punti salvezzi. L'ambiente si sta rimanendo compatto, io mi auguro che la tifoseria venga a sostenerci, ad aiutarci perché siamo in un momento di difficoltà, di organico, di anche qualche problema di condizione atletica, dovuto anche ai vari infortuni, al rientro degli infortuni. Abbiamo una rosa in questo momento molto riscretta, quindi l'aiuto di tutti sarà importante per ottenere questi punti fondamentali. La donna ha fatto due allenamenti, è andata ad allenarsi con la rappresentativa Juniors regionale, Dolori pare che non ne ha, però giustamente la condizione è quella che è. Mi auguro che se c'è la necessità di poterlo impiegare almeno per una mezz'oretta.